Benvenuti a questa puntata speciale di Stampevangelo che dedichiamo totalmente alla vicenda di Alfie Evans con le ultime notizie da Liverpool perché siamo collegati con Giovanni Marco Tuglio che è presente all'Aldray di Liverpool per darci le ultime notizie ed è una grande adunata di popolo voglio dirlo, oggi siamo qui tutti uniti, leggo i primi nomi Federica Lupi, Antonio Casini, Raffaele Adinolfi, Romana Cordova, Marco Pennetti, Nicolò Marino, Alberto Agus siamo tutti uniti qui per far sentire forte una voce alternativa a quella che sta dominando l'informazione ordinaria vorrei dire di regime mi verrebbe da aggiungere con uno scandaloso articolo in prima pagina di Michela Marzano oggi su Repubblica letteralmente scandaloso che attacca la decisione del governo italiano evidentemente avvenuta anche su pressione vaticana di riconoscere ad Alfie Evans la cittadinanza italiana un attacco ad alzo zero di cui parleremo tra pochissimo contestiamo anche l'informazione fatta da Rai 1, dal Tg1, dai telegiornali, dal Fatto Quotidiano dall'informazione di regime che sta cancellando i fatti per come sono e oggi qui noi parleremo dei fatti per come sono e contestando anche il retroterra ideologico perché qui è presente un retroterra ideologico che attorno anche alla vicenda di un bambino come Alfie vuole far vincere la cultura della morte allora noi qui oggi ci ritroviamo come popolo per darvi delle notizie noi oggi qui sveleremo alcune questioni fondamentali della vicenda Alfie e parleremo di informazione parleremo di come l'informazione sta veicolando la vicenda Alfie Evans qui in Italia e di cosa in realtà sta avvenendo seriamente nella vicenda che ha dentro anche una dimensione di miracolo fatemelo dire le immense, intense preghiere che non ci hanno fatto dormire questa notte i nostri figli mia moglie ha scritto un post ieri dicendo lo considero come un mio figlio e molti ho visto che hanno usato questa espressione evidentemente questo davvero sta determinando qualcosa di incredibile la notizia principale è che Alfie Evans è vivo Alfie Evans è vivo nonostante la decisione di estubarlo come si dice tecnicamente cioè di togliergli il supporto della ventilazione artificiale ebbene lui ha respirato da solo tutta la notte adesso è di nuovo sotto ossigenazione nonostante tutti coloro che dicono ah c'è accanimento terapeutico no c'è l'accanimento di Alfie a voler vivere e a dare un segno perché questo è un segno è al di là della vicenda singola che oggi tratteremo evidentemente ma tutto questo ha un significato che va infinitamente al di là della vicenda singola questa è la puntata di stampa e vangelo che dedichiamo esclusivamente a Alfie Evans e come tutte le puntate di stampa e vangelo la apriamo leggendo il vangelo del giorno che oggi è il vangelo di Giovanni di questo tempo pasquale il martedì della quarta settimana di Pasqua siamo nel decimo capitolo di Giovanni i versetti sono quelli che vanno dal 22 al 30 ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione era d'inverno Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano fino a quando terrai l'animo nostro sospeso sei tu il Cristo dillo a noi apertamente Gesù rispose loro ve l'ho detto e non credete le opere che io compio nel nome del padre mio queste mi danno testimonianza ma voi non credete perché non siete mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mia mano e dalla mano del padre mio io e il padre siamo una cosa sola questa è la parola del Signore di oggi chi è con Cristo ha la vita eterna questo è l'elemento centrale ma siamo anche noi dentro quel grido del Vangelo di oggi fino a quando terrai l'animo nostro sospeso fino a quando terrai l'animo nostro sospeso è oggi la domanda che sicuramente ci attanaglia io vi chiedo se è possibile di condividere questa diretta sulla vostra pagina Facebook di invitare i vostri amici a seguirla di fare un mi piace alla diretta stessa per evitare l'attacco da parte degli haters perché quello di cui parleremo oggi è davvero qualcosa di rilevante la vicenda di Alfie Evans non è solo la vicenda di una singola famiglia che a Liverpool sta vivendo questa tragedia così forte in questa dimensione di fede così forte è qualcosa che va evidentemente al di là e lo si capisce oggi dall'articolo di Michela Marzano in prima pagina su Repubblica Michela Marzano attacca frontalmente frontalmente la decisione del governo italiano saggia di riconoscere la cittadinanza ad Alfie parla di pasticcio a Radio Capital Massimo Giannini vice direttore di Repubblica ha appena parlato di accanimento diplomatico a Rai Uno danno ragione al giudice di sua maestà britannica a uno mattina danno ragione a chi dice ha lasciato andare questo povero bambino allora attenzione cerchiamo di capire perché tutto questo accade perché c'è un accanimento dell'informazione contro Alfie Evans contro il suo diritto a vivere e nella sua ingenua stupidità Michela Marzano lo spiega chiaramente dice Michela Marzano in quest'articolo in prima pagina su Repubblica ma come fate a dare la cittadinanza ad Alfie Evans nel momento in cui abbiamo approvato il testamento biologico eccedendo a un populistico difendete la vita che rischia di mettere in discussione anche l'interruzione volontaria di gravidanza e di sospendere il percorso che va verso l'eutanasia e il suicidio assistito questo scrive Michela Marzano oggi in prima pagina su Repubblica contesta la cittadinanza data ad Alfie Evans perché ferma il percorso che in Italia conduce al suicidio assistito e alla eutanasia considerando come primo passo quello del biotestamento esattamente quello che va sottolineato per questo è importante che oggi questa diretta la seguiamo in tanti perché è l'unico strumento di controinformazione che abbiamo intanto si è connesso con noi da Liverpool Giovanni Marco Tuglio che è lì a differenza di Michela Marzano a differenza di Massimo Giannini a differenza dei giornalisti del Tg1 che hanno tutti dormito bene senza occuparsi della notizia facendo come ha scritto bene citando Samuele Bersani Giovanni Marco Tuglio la copia di mille riassunti mentre invece Giovanni Marco Tuglio è a Liverpool e come vedete nella chat vi saluta direttamente da lui avremo le notizie parleremo anche di alcuni fatti la prima cosa che ho chiesto a Giovanni Marco Tuglio durante la sua presenza lì a Liverpool è stato usato il fentanil di questo non vi parlano di questo sui giornali non trovate una riga il fentanil è un potentissimo antidolorifico chiamiamolo così analgesico cento volte più potente della morfina nel protocollo medico di estubazione cioè quando toglievano il respiratore ad Alfie Evans avrebbero dovuto usare il fentanil per condurlo alla morte ora il fentanil è la droga perché in realtà è una droga che ha ucciso le grandi star della musica internazionale da Prince a Michael Jackson a Dolores sono tutti morti per uso del fentanil quindi io ho chiesto a Giovanni Marco Tullio è stato usato il fentanil Giovanni si è informato e ha tirato fuori la risposta cruciale il papà Thomas Evans ha minacciato i medici affinché non usassero il fentanil che è la chiave la chiave di questo ragazzo di 21 anni di questo papà coraggioso è anche sapere cosa fare e quando farlo lo vorrei dire perché tutta questa vicenda del papà che si è barricato nell'ospedale Alderei quando sembrava ormai che fosse inevitabile la morta di Alfie che poi è venuto grazie all'azione di Benedetta Frigerio ricevuto da Papa Francesco in Vaticano che è stato qui in Italia ha incontrato molti amici tra cui Costanza Miriano e nel momento determinante ha impedito l'uso del fentanil questo medicamento che in realtà serviva semplicemente a far morire Alfie perché provoca il collasso respiratorio ed è di questo che sono morti Michael Jackson Prince e muoiono purtroppo decine di migliaia di persone nel mondo nel silenzio totale perché il fentanil è una droga che viene ormai consumata in tutto il mondo questa intelligenza delle cose da parte di questo papà ventunenne ha bloccato l'esito che sarebbe stato inevitabilmente fatale se il fentanil fosse stato somministrato e allora è questa la notizia e voglio darvi da dieci ore Alfie Evans respira secondo i medici doveva durare dai tre ai quindici minuti senza ventilatore perché nel protocollo c'era l'uso del fentanil l'intervento del papà di Alfie ha permesso che questa condizione non si verificasse dice bene Danilo Nonardi qui nella diretta cerco di leggere i vostri commenti ma ne arrivano moltissimi questo uomo è un gigante un gigante di ventun'anni che ci indica anche una via si può resistere si può dare battaglia e resistere ma bisogna sapere capire dettagliatamente fare la cosa giusta al momento giusto essere attorniati da quella che Maurizio Grosetti nelle pagine interne di Repubblica di oggi definisce in maniera sprezzante un'armata brancaleone l'armata brancaleone dei cattolici che pregano per Alfie sì ma fondamentalmente al di là dell'armata serve un generale e questo generale è un ragazzo di ventun'anni che si chiama Thomas Evans il papà di Tom Maria Elena chiede come mai lo hanno accontentato sul fentanil non l'hanno accontentato ha minacciato denuncia ha minacciato denuncia privata attenzione con grande intelligenza anche giuridica quindi non denuncia all'ospedale ma denuncia alla persona che avrebbe somministrato il fentanil Rita chiede perché esiste negli ospedali il fentanil se serve solo per uccidere non serve solo per uccidere essendo il più potente analgesico che esiste in commercio serve in realtà alla sedazione profonda e a togliere i dolori ai marati oncologici che soffrono altrimenti dolori indicibili è un potentissimo analgesico ripeto di solito in corsiare ospedale si dà la morfina per quelli che hanno dolori insopportabili si dà il fentanil perché è 100 volte più potente della morfina dallo a un bambino di 23 mesi con difficoltà respiratorie ed evidentemente lo uccidi Ilaria chiede cosa dovrebbe accadere nelle prossime ore benissimo è la domanda giusta lo scenario delle prossime ore Giovanni ci informerà ma sappiamo già che Tom è andato via dall'ospedale e il prossimo passaggio è di tipo giuridico l'obiettivo che evidentemente si è dato Tom con la moglie Kate è di portare Alfie cittadino italiano in Italia sono le 9 ore italiane anzi le 9.08 in questo momento e dunque si va di nuovo dal giudice vi dico con chiarezza che io conosco la logica britannica è molto difficile forse è impossibile che i britannici lasciano venire Alfie in Italia è davvero molto difficile se non impossibile da sempre la cultura giuridica britannica non tollera ingerenze di campo su questo tipo di situazioni mi viene in mente lo sciopero della fame di Bobby Sands nel carcere nord-irlandese pensate Bobby Sands venne anche eletto deputato proprio per far uscire dalla condizione lo sciopero della fame in cui si trovava e per indurre Margaret Thatcher e il governo conservatore a un atto umanitario non solo morì Bobby Sands ma morirono di fame per lo loro sciopero della fame 12 altri prigionieri cattolici dell'Irasher Republican Army la trattativa con i minatori inglesi la conoscete benissimo è andata avanti per due anni anche lì senza cedimenti ormai dice bene Monica Consigliere è una guerra ideologica e forse ancora di più di una guerra ideologica adesso è diventata una questione di Stato quello che non si aspettavano era la resistenza del bambino il miracolo in tutta questa vicenda è la resistenza del bambino perché il bambino viene estubato alle 21.17 ora locale di ieri perché si prevede che non possa reggere neanche 15 minuti senza ventilazione il fatto il cigno nero di questa vicenda l'accadimento eccezionale per noi che crediamo possiamo dirlo il miracolo è la resistenza di Alfi pensate Patrizia Luccherini chiede perché al Tg1 delle 8 è stata data la notizia dello staccamento della respirazione perché anche i media italiani volevano la morte sappiate che in questo momento Alfi è ossigenato idratato e ossigenato grazie all'azione di Tom che ha parlato alla stampa alle 8 del mattino ore 7 ora locale e grazie alle informazioni che ci dà Giovanni Marco Tuglio da Liverpool lo ricordiamo è lì così si fa l'informazione in Italia cara Michela Marzano cari giornalisti di Radio Capital caro Massimo Giannini cari colleghi del Tg1 cari colleghi di Repubblica non si fa dormendo e poi svegliandosi con un scritto ideologico si fa facendo informazione in loco Giovanni Marco Tuglio è lì è lì come c'è Benedetta Frigerio come ci sono quelli che hanno a cuore non solo la vicenda in sé ma anche la portata storica di questa vicenda dice bene Antonella Tognin Armata Brancaleone non molliamo non molliamo teniamo teniamo questa posizione soprattutto facciamo sapere al mondo quello che sta accadendo facciamolo sapere all'Italia questa diretta per favore condividetela immediatamente e date indicazioni a tutti di venire a sentire cosa sta accadendo perché sappiatelo noi siamo dentro questa vicenda ce la stiamo raccontando da settimane se non da mesi e quindi sappiamo tutto ma l'Italia si sta accorgendo oggi della vicenda di Alfie Evans ed è una giornata particolare perché oggi si gioca anche Roma-Liverpool anzi per la precisione Liverpool-Roma a Liverpool quindi abbiamo un'enorme occasione una finestra una straordinaria occasione per far conoscere la verità su questi fatti perché perché ci sono molti giornalisti italiani che sono a Liverpool ma per seguire la partita Maurizio Crosetti di Repubblica è un giornalista che segue la partita è andato si è fatta evidentemente una camminata davanti all'Alderei all'ospedale di Liverpool e lì ha tirato fuori questa espressione l'armada a Brancaleone allora adesso dobbiamo utilizzare quest'occasione il fatto che ci sia tanta stampa concentrata a Liverpool per seguire la partita di calcio per far conoscere i fatti e dire insieme come dice Jacopo Pioli dalla Cina pensate un po' che si è connesso dalla Cina Dai e Roma ma sì Dai e Roma oggi vinca Roma ma non la partita di calcio anche magari ma andiamo e spieghiamo a Michela Marzano perché non è un pasticcio che l'Italia abbia riconosciuto la cittadinanza ad Alfie Evans è la grande occasione per l'umanità intera per l'umanità intera di uscire da quella cappa di morte che è fotografata in quell'articolo sceno di Michela Marzano che mette insieme infatti Alfie Evans con l'introduzione volontaria di gravidanza con il suicidio assistito con l'eutanasia e con tutta la cappa di morte perché lei vuole che sia integrale ma non lei come Michela Marzano quel giornale quell'orientamento politico quell'orientamento ideologico il pensiero unico che guida l'informazione italiana quello vuole la battaglia in questo momento è tra questa oscena cappa di morte che avvolge il mondo occidentale proveniendo dalla dimensione giuridica nord europea e anglo americana e la resistenza possibile che la cultura italiana giuridica storica religiosa può opporre a tutto questo c'è oggi un piccolo cittadino italiano da liberare a Liverpool come dice bene Danilo Leonardi questo è ciò che dobbiamo costruire nella consapevolezza degli italiani tutti questa terra è la terra che resiste l'Italia della resistenza che sa dire no alla cultura della morte viva l'Italia l'Italia che resiste cerchiamo di farlo sapere perché oggi è l'occasione fino a oggi amici miei nessuno sa nulla è il nostro micro mondo che sa della vicenda di Alfie Evans da questa mattina l'elemento miracoloso della resistenza di un piccolo bambino gravemente disabile ci offre le condizioni per far riflettere tutti sul perché così determinati sono nel volere la morte di questo bambino perché 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 vogliono che muoia così determinati sono con una serie di sentenze infinite anche in questo momento siamo davanti al giudice perché vogliono che muoia per una ragione molto chiara perché rispetto alla fragilità dell'uomo il ventunesimo secolo intende caratterizzarsi per volontà precise espresse da gruppi culturali e di potere che sono allineati ai dettami massonici alla soppressione della fragilità non al sostegno alla fragilità che è la lezione di due millenni di cristianesimo il cristianesimo libera dalla schiavitù materialmente rompe i ceppi agli schiavi e sostiene la fragilità l'istruzione la sanità la nascere degli ospedali sono tutto un sostegno alla fragilità ora si vuole capovolgere questo assunto per ragioni di denaro perché i sistemi di welfare non reggono più e dunque bisogna abbattere dei costi a partire dalla soppressione degli improduttivi signori è questo un disegno evidente non è erode gli improduttivi siamo tutti coloro che si ritrovano in una dimensione di fragilità e infatti la proposta è non far nascere i bambini con difficoltà attraverso l'aborto se nascono sopprimerli come nel caso di Alfie e chiunque si trovi in una dimensione di fragilità emotiva fisica di malattia di sofferenza condurli verso quell'orizzonte terribile che è quello dell'eutanasia e del suicidio assistito che viene spacciato come orizzonte di libertà e di progresso questa è la battaglia in corso questa è la battaglia ed è la battaglia fondamentale per la vostra stessa vita nel ventunesimo secolo per la vita dei vostri figli per tutti noi è ciò che conta davvero ciò per cui occorre spendersi davvero non per il reddito di cittadinanza per la flat tax per tutte le minchiate con cui ci riempiono il cervello è questa la battaglia fondamentale per la dignità della persona umana da salvaguardare soprattutto nel momento della sua fragilità per combattere coloro che vogliono invece attorno alla fragilità costruire l'elemento che è anche un elemento di evidente risparmio di denaro sopprimendo i fragili allora noi di questo dobbiamo essere assolutamente consapevoli assolutamente consapevoli se Alfie fosse in Italia ad Alfie non sarebbe toccato un capello morirebbe probabilmente prima o poi nell'affetto dei suoi genitori ma tutti dobbiamo morire quello verso Alfie non è accadimento terapeutico ed è evidenziato anche dalle fotografie che sono state pubblicate oggi che ho pubblicato anch'io dell'abbraccio di Alfie con la madre c'è una forza in quell'abbraccio in quella pietà fotografata della mamma che accoglie il figlio sofferente che spiega quanto sia fondamentale che esista ancora questa figura così decisiva com'è la figura materna allora amici noi dobbiamo noi dobbiamo essere davvero attenti a questo versante e a questa a questo momento storico perché è un momento in cui sta accadendo qualcosa di determinante o forse oggi con l'occasione di far percepire al mondo intero qual è lo scontrinato facendo leggere questo articolo infame di Michela Marzano facendo guardare la trasmissione di Radio Capital con Massimo Giannini che parla di accanimento diplomatico facendo capire la logica di Repubblica di Rai 1 del Tg1 di 1 Mattina delle informazioni che non vengono date in cui si dice che viene stubbato ma non si dice che adesso sta riottenendo l'ossigeno in cui non si fa nulla per sostenere la battaglia di quest'armata anzi la si definisce armata a Branca Leone ebbene sì definiamoci così defineteci come volete ma noi abbiamo adesso un'occasione importante per far capire quanto è fondamentale l'esistenza di un'alternativa culturale giuridica storica e religiosa un'alternativa che si chiama Italia un'alternativa che si chiama Italia questo è l'elemento cruciale per cui noi oggi ho voluto vestire la maglia azzurra come vedete oggi vesto la maglia azzurra voglio stare con la maglia della nazionale italiana visto che dobbiamo rappresentarci così anche nell'incrocio con la dimensione calcistica visto che oggi questo Liverpool Roma davvero sembra un incrocio del destino noi vogliamo pretendiamo in questo momento che sia riconosciuta l'alterità storica giuridica culturale volevamo dire diplomatica dell'Italia e che in questo momento l'Italia si sappia far valere dimostrando agli inglesi e al mondo tutto che c'è un'alternativa possibile un'alternativa a quella della soppressione la rappresenta anche la presenza dicevo di Giovanni Marco Tuglio che è lì a Liverpool davanti alla all'Alderei c'è anche Mariella Enoch davanti all'Alderei chi è la dottoressa Enoch che è il direttore del Bambin Gesù dell'ospedale Bambin Gesù di Roma non l'hanno voluta far entrare neanche lei perché anche lì lo ripeto anche dal punto di vista sanitario c'è un'alternativa possibile e Mariella Enoch non è stata fatta entrare all'ospedale Alderei di Liverpool perché l'ospedale Bambino Gesù di Roma rappresenta un'alternativa anche dal punto di vista sanitario all'incuria perché voglio dire c'è stata anche incuria dell'ospedale inglese tant'è che Giovanni Marco Tuglio da Liverpool mi ha spedito anche delle fotografie che più avanti farò vedere dell'incuria in cui è stato tenuto Alfie Evans in tutti questi mesi ho voluto fare un riassunto c'è un post prima di questa diretta che riassume la vicenda di Alfie Evans perché dobbiamo ricordarcelo in questo momento decine di milioni di italiani stanno scoprendo che esiste il caso Alfie Evans cerchiamo di capirlo questo quello che noi è per noi è una causa che va avanti da settimane se non da mesi è in realtà qualcosa che gli italiani non conoscono e su cui vengono informati oggi da Repubblica che dice che è un pasticcio aver dato la cittadinanza italiana ad Alfie che doveva solo morire perché c'è solo accanimento terapeutico quindi noi in questo momento stiamo rappresentando la voce altra la voce alternativa l'informazione alternativa la controinformazione rispetto a quello che sta avvenendo invece nell'informazione mainstream Monica Consigliere testimonia persino mia madre non ne sapeva nulla esatto dobbiamo entrare sempre in questa ottica il nostro microcosmo è un microcosmo oggi è l'occasione per cui la riflessione diventa riflessione mainstream di massa in cui possiamo ragionare far ragionare l'intero paese su questa tematica e su questa storia perché sono le vite di tutti noi che vanno in gioco se va in gioco la vita del fragile Alfie perché prima o poi saremo noi a essere dentro la dimensione della fragilità maria marroso dice non conoscono perché non hanno voluto farla conoscere né agli italiani né agli altri non volevano che fossero a conoscenza di questa vicenda i bambini questa è la mia idea se i bambini vengono a conoscenza di questa vicenda di Alfie l'empatia dei bambini diventa immediata e attraverso l'empatia dei bambini i genitori non possono che sciogliersi in questa casa si è pianto per Alfie e vi assicuro che io sono una persona con una cotenna grossa così ma in questa casa è accaduto è accaduto che ognuno si senta genitore di Alfie non volevano che fossero a conoscenza di questa vicenda i bambini e allora Ramona Panarelli vede scrive mia mamma mi ha detto al TG hanno parlato del bambino per cui prega preghi tu capisci hanno parlato al TG oggi è la grande occasione oggi è la grande occasione ci informa anche Filippo Martini dei giuristi per la vita non lo stanno nemmeno sedando i giuristi per la vita hanno svolto un ruolo fondamentale davvero grandioso in questa in questa vicenda Mary Rossi da Padova scrive ho informato alcune colleghe che non sanno nulla e hanno pianto Nicola Ocello dice che al TG Com hanno detto che Alfi resiste perché il papà gli pratica la respirazione bocca a bocca Giovanni Bolzan mio figlio di quattro anni prega tutti i giorni per Alfi lo considera suo amico questo è il tema questo è il tema se i bambini vengono a conoscenza di questa vicenda l'empatia immediata dei bambini rende tenero il cuore del genitore più duro Anna Del Guerra dice io ho pianto tanto e ancora sono in ansia finché non lo vedo uscire da quel lager Raffaele Adinolfi ci vorrebbe uno striscione in curva a Liverpool potremmo dare anche quest'idea ai tifosi da Roma presenti per rappresentare appunto l'alternativa l'alternativa che l'Italia rappresenta che l'Italia rappresenta davanti al mondo lo ripeto dal punto di vista giuridico sarebbe davvero bello se fosse srotolato uno striscione dai tifosi romanisti chi ha contatti con tifosi presenti a Liverpool può dare questa idea perché così lo può vedere in mondo visione lo striscione che dovrebbe contenere semplicemente la frase let Alfie live lasciate vivere Alfie lasciate vivere Alfie davvero Giovanni Marco Tuglio smentisce la vicenda della respirazione bocca a bocca e lo smentisce avendo avuto contatto diretto con Tom semplicemente Alfie Evans sta resistendo e questa resistenza dimostra la possibilità del miracolo perché nessuno se l'aspettava nessuno davvero poteva sperare qualcosa del genere Maria Maria Marrosu rispetto alla proposta della curva ci informa mi risulta che qualcuno si era già mosso Vittoria Polacci in questi giorni viviamo emotivamente in funzione di Alfie ecco questo è un elemento importante che vorrei sottolineare non è una dimensione emotiva quella che dobbiamo coltivare ovviamente ci prende l'emotività è una dimensione che ci prende al cuore ma dobbiamo cercare di resistere a questo elemento Giacomo Marcheselli dice ma quindi sei scettico Mario secondo te ora si incattiviranno ancora di più io conosco un po' i britannici ma anche da vicino per certi versi trovo molto difficile che lasciano partire Alfie forse lo considero impossibile per i criteri giuridici e di come dire rispetto quasi sacro che hanno della sovranità nazionale e della National Health Security c'è del loro sistema sanitario nazionale loro non mettono in discussione l'attività del loro sistema sanitario è una sorta di religione laica sono molto specializzati i medici britannici è un sistema sanitario che una volta almeno era all'avanguardia del mondo ed è un elemento di fiducia totale che hanno i cittadini britannici pensate che quando ritirano le analisi le analisi non vengono portate a casa dalla persona che le ha fatte ma vengono lasciate nella cartella clinica conservato dall'NHS cioè dal Sistema Sanitario Nazionale è una vicenda che però ha a che fare con un problema che l'NHS cioè il Sistema Sanitario Nazionale Britannico ha un problema di costi ha un serissimo problema di costi e il tema della contrazione dei costi è il tema fondamentale per la sopravvivenza stessa dell'NHS per questo motivo il Servizio Sanitario Nazionale sta comprimendo i costi di cura verso la fragilità vi ricordate la vicenda di Mariam la ragazza italo-egiziana che è morta a 18 anni picchiata dalle bulle a Londra bene la vicenda di Mariam è un'altra vicenda di farmaci non somministrati a Mariam che sorviva nella malformazione cardiaca anche quando Mariam ne faceva richiesta perché l'ossessione è quella di conservare spazi di denari c'è una diciamo così gestione dei fondi come dire chiamiamola molto oculata all'NHS quindi vuol dire che tendono a non pagare per esempio i farmaci salvavita o anche le cure salvavita ad alcune categorie di malati tra cui gli obesi peraltro ora questo elemento è evidentemente l'elemento cruciale di questa partita perché io lo ripeto la partita in corso su Alfie è una partita di natura economica non per Alfie in sé ma evidentemente per le migliaia di bambini dico solo bambini che sono in questa condizione in Inghilterra in questo momento voi sapete che prima di Alfie Charlie Garda Isaia sono morti nelle stesse identiche condizioni ora il tema che dobbiamo portare avanti è sottolineare questa dicotomia tra l'opzione italiana l'opzione italiana di salvaguardia della vita della persona umana nella sua dignità e invece la trasformazione progressiva che il sistema nord europeo britannico in particolare ha fatto della persona umana a cosa citerò Elton John per una volta l'utero in affitto quindi una donna si può affittare la maternità si può comprare il bambino è oggetto di una transazione finanziaria a quel punto la persona è diventata cosa quando la persona diventa cosa nel pragmatismo tipico della cultura britannica allora la cosa fallata va eliminata questo è l'elemento culturale che sta vincendo in questo momento a Liverpool dall'altra parte la resistenza della dignità umana impersonata da Alfie Evans la resistenza consapevole di Tom del papà che non fa somministrare il fentanil al bambino per evitare l'immediato collasso respiratorio quindi la consapevolezza e la conoscenza il saper fare la cosa giusta al momento giusto di questo ragazzo di 21 anni che è un gigante in questa battaglia insieme un popolo che è in mobilitazione in preghiera e che verrà pure definita armata a Brancaleone da Maurizio Crosetti su Repubblica ma è un popolo è un popolo non si combatte con un editto di sua maestà britannica trasmesso da un giudice in parrucca attenzione oggi è evidente che per un bambino sofferente è molto meglio nascere in Italia che nascere in Gran Bretagna oggi per un anziano sofferente è molto meglio essere malato in Italia che in Belgio Olanda Lussemburgo dove l'autorazia potrebbe essere praticata immediatamente Antonino Arcuri dice accidente i soldi contano loro nella vita contano ormai solo loro nella logica degli stati non contano solo loro nella logica delle persone dov'è che non contano solo i soldi nella famiglia la famiglia supporterà l'elemento debole sempre e comunque a prescindere dal costo che ciò comporta per la collettività per questo l'elemento che devi costruire è minare la famiglia falla saltare per aria pensiamo alla vicenda Appendino le due mamme eccetera tutto si tiene amici miei tutto si tiene lo vedete come le nostre battaglie sono in realtà unite da un filo rosso Udolo in affitto Elton John transazione finanziaria sui bambini le due mamme dell'Appendino ci dico siamo omofobi siamo difensori della vita e della dignità umana per come è perché c'è la verità e il dato di fatto della verità è che l'essere umano è unico è nato sempre da un uomo e da una donna ha diritto alla sua dignità ha diritto ad essere sostenuto nella sua fragilità nella verità e non nella menzogna perché se vince la menzogna vince la morte è tutto connesso e infatti Michela Marzano è l'articolo in prima pagina oggi su Repubblica connette tutto dice attenti perché questi vogliono la fine dell'interruzione volontaria di gravidanza la fine del testamento biologico non vogliono arrivare al suicidio assistito non vogliono arrivare all'eutanasia e voglio confessartelo Michela Marzano è tutto vero ed esattamente così noi vogliamo difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale perché difendiamo l'uomo nella sua integrità e totalità perché questa è la nostra battaglia questo è ciò a cui siamo chiamati come generazione e fatemelo dire una volta come italiani e cristiani questo è lo confesso Michela Marzano hai la mia confessione hai percepito il punto ma ti sei schierata dal punto di vista della morte noi siamo schierati orgogliosamente forse come armata Brancaleone non abbiamo la RAI non abbiamo Repubblica non ci fanno fare le carriere che fanno fare a te alla Sorbonne o in giro per il mondo ma siamo dalla parte giusta siamo dalla parte della ragione e per chi di noi crede siamo dalla parte della verità per l'incontro con Cristo che ci ha insegnato dov'è la verità dov'è la via e dov'è la vita questo è ciò che noi dobbiamo compiere andando avanti in questa battaglia anche quando la battaglia dovesse evolvere magari negativamente perché il cuore del faraone non si intenerirà e continueranno le sentenze di morte nei confronti di altri finché non l'avranno realizzata questa morte ma c'è un fatto da cui non si torna ed è la resistenza di Alfie di questa notte che ha trasformato una vicenda che era dentro solo un inner circle a una grandissima vicenda che può essere consegnata al mainstream e alla riflessione collettiva nel nostro paese noi dobbiamo saper costruire questo dobbiamo saperlo dire saperlo comunicare dobbiamo farlo con grande competenza ricordate che il segreto di Tom Evans è la competenza nel dire e nel fare fare quello che bisogna fare al momento giusto con i toni giusti nella modalità giusta con questo si vince Stefano Peppe dice Davide con una fionda fece vincere la guerra attenzione Davide sceglie la pietra giusta e scaglia la pietra con intelligenza e precisione bisogna saper essere con grande competenza e precisione nella battaglia sapendo fare quel che bisogna fare è l'elemento fondamentale di questa battaglia io volevo che oggi fossero consegnate queste nostre parole se possibile a più persone in questo paese se potete fate un mi piace a questa diretta se potete condividetela sul vostro profilo facebook fate sapere ai tifosi della Roma quello che sta accadendo affinché a Liverpool rendano testimonianza alla forza e alla bellezza del diritto italiano fondato sul diritto romano e difendano Alfi con un bello striscione che vorremmo vedere nella curva giallorossa condividiamo questa diretta sosteniamo l'attività dei giuristi per la vita di tutti coloro che si stanno battendo giornalisticamente e non solo Benedetta Frigerio il nostro Giovanni Marco Tuglio affinché sia chiaro ciò che stiamo facendo al di là del singolo evento per far ragionare sul tema più significativo certamente con la nostra dimensione emotiva certamente con la nostra dimensione da cristiani in preghiera come popolo ma sapendo costruire anche una consapevolezza evidente di ciò che sta accadendo al mondo rispetto al quale l'Italia può essere ancora di salvezza ancora una volta Roma Caput Mundi io vi ringrazio per aver seguito questa diretta noi ci rivedremo nella diretta di oggi Stampevangelo cercherà di essere connessa appena abbiamo notizie vi faremo avere elementi che possano essere utili alla riflessione di tutti fate sapere quel che oggi abbiamo detto che esiste un luogo della controinformazione che è altro rispetto a Repubblica Michela Marzano Maurizio Grosetti Massimo Giannini Tg1 Uno Mattina Tg5 Tgcom noi diciamo qualcos'altro e vogliamo far riflettere su questo altro è la possibilità che ci è data in questa giornata che ci è data della grandissima vicenda umana della resistenza di un bambino che non parla forse non sente e non vede ma è un bambino che ci sta dando lezione di vita nella sua fragilità perché non c'è niente più bello niente di più bello di un oggetto che è prezioso perché è fragile e allora quando un oggetto è prezioso perché è fragile noi lo contorniamo di tutte le attenzioni facciamo in modo che l'oggetto non si fracassi perché quando invece di un oggetto a essere evidente nella fragilità è un bambino vogliamo invece distruggerlo con tutte le nostre forze noi siamo evidentemente dalla parte dell'irrazionalità se facciamo una cosa del genere dobbiamo costruire le condizioni affinché questa fragilità la fragilità umana sia salvaguardata altrimenti l'inferno è davvero l'inferno in terra per tutti noi un saluto agli amici del popolo della famiglia che continuano a militare tra l'altro siamo in corsa abbiamo appena finito le elezioni regionali in Friuli in Molise dobbiamo fare domenica le elezioni regionali in Friuli dobbiamo preparare le liste per le amministrative visto che entro il 10 giugno dobbiamo presentarle per andare poi il 10 entro il 10 maggio dobbiamo presentarle per andare il 10 giugno alle elezioni ma oggi non parliamo di Polini oggi parliamo solo di ciò che tutto questo rappresenta anche per le motivazioni che ci dà nel fare l'attività politica perché non la faremmo se non ci fosse questo da dover salvaguardare cioè è la possibilità per l'uomo di essere difeso nella sua fragilità di essere amato nella sua unicità anche nel momento in cui è fallato una sua debolezza da dover evidenziare non sia solo Dio a considerare preziosissimo il cuore l'anima e il corpo di Alfie Evans sia preziosissimo per ciascuno di noi salvaguardiamolo per come possiamo abbracciamolo con tutta la nostra forza preghiamo per lui e battiamoci affinché tutto questo sia messaggio di vita e di umanità per la nostra nazione da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti in caso di informazioni fondamentali da fornire da Liverpool riapriremo la diretta nel corso della giornata buona giornata forza Alfie noi siamo con te